Ben ritrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi parliamo del 25esimo anniversario della dedicazione del Santuario del Nevegalla e lo facciamo in compagnia del Rettore del Santuario, Don Francesco De Luca, che è venuto a trovarci proprio per parlare di questo importante appuntamento che si terrà il primo agosto alle ore 18, questa celebrazione. Veniamo con ordine però, Don Francesco, una ricorrenza che è stata in qualche modo compromessa, possiamo dire proprio così, utilizzare questo termine, a causa del Covid. Perché, Don Francesco? L'anniversario, la data dell'anniversario sarebbe caduta il primo maggio perché il Santuario è stato dedicato con solenne celebrazione proprio il primo maggio del 1995. Una data scelta allora in modo significativo perché il primo giorno di un mese mariano, visto che il Santuario appunto è dedicato a Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes, voleva essere un modo per dire come quella chiesa che è immagine del popolo di Dio, della chiesa fatta di persone, è alimentata, diremmo così, anche dalla devozione mariana e dalla preghiera a Maria. Purtroppo il primo maggio di quest'anno tutto era chiuso, non si poteva celebrare e allora abbiamo pensato di rimandarlo, l'abbiamo rimandato di tre mesi, il primo agosto sono proprio tre mesi dopo, ma c'è il vantaggio che il Colle in questo periodo è frequentato e nonostante, diremmo così, la pandemia non sia ancora del tutto superata, vedo che molti approfittano di salire sul Colle un po' perché hanno la casa, un po' perché hanno la roulotte e un po' anche per rifugiarsi, diremmo così, in un luogo in mezzo alla natura, un luogo di serenità e di pace per ritemprarsi magari da una settimana vissuto ancora al lavoro, in luoghi caldi. Infatti noi stiamo vedendo anche proprio in questo momento, grazie all'aiuto della regia, alcune immagini proprio relative al Santuario del Nevegal, che è un luogo che di per sé emana spiritualità proprio per il luogo anche in cui è collocato, inserito. Sì, la natura che lo circonda è bellissima e l'architetto, bisogna dire, edificando questo luogo ha avuto cura di creare un luogo, potremmo dire così, protetto, tant'è vero che chi entra nello spazio del Santuario, che non è solo la Chiesa, ma è anche, diremmo così, il Sagrato, è anche il luogo aperto dove la natura fiorisce e la grotta dove è presente l'immagine di Maria, crea un senso davvero di pace. Tutti coloro che vengono lo dicono, lo testimoniano, sperimentano un luogo dove l'anima, lo spirito può riposare. Tra l'altro anche la luce ha un ruolo molto importante in questo Santuario, ovviamente il valore è simbolico. Certamente, ecco la luce in qualche modo rappresenta il mondo di Dio, rappresenta in qualche modo Dio stesso e sia la Chiesa sia la grotta si aprono verso una luce che è oltre. Le grandi vetrate che sovrastano, diremmo così, il luogo della celebrazione, come le stelle che nel fondo della grotta aprono all'infinito perché in un preciso punto al centro del cerchio si vede oltre, si vede oltre le stelle il cielo, ci parlano appunto di questo mondo di Dio che ci avvolge e che nello stesso tempo ci attende. Don Francesco, lei parlava prima appunto dell'evento avvenuto 25 anni fa. Chiediamo alla regia un aiuto proprio nel mandarci, mandare in onda alcune di quelle fotografie storiche proprio che si riferiscono a quell'evento. Possiamo rivivere così l'emozione di una giornata che è stata una giornata storica? È stata una giornata storica, possiamo dirlo davvero, per tanti aspetti. Beh, per la partecipazione del clero, negli articoli del tempo si parla di un centinaio di persone, le immagini effettivamente ne rendono un centinaio di sacerdoti, le immagini ne rendono testimonianza. C'è stata una ricca presenza dell'Unitalsi e poi c'erano le persone, oltre che all'autorità. E' stato un evento, potremmo dire così, di chiesa. Effettivamente il rito della dedicazione del santuario, nei suoi segni e nella preghiera con cui la chiesa viene dedicata esclusivamente proprio alla preghiera e al culto, esprime bene questo senso che la chiesa di mattoni è simbolo della chiesa di persone e Maria, a cui il santuario è dedicato, il concilio Vaticano II ce l'ha proprio presentata come madre della chiesa. Eravamo abituati a chiamarla madre di Dio, eravamo abituati a chiamarla madre di Cristo, madre di Gesù e ora la sentiamo in modo forte come madre della chiesa. Ecco, la preghiera di dedicazione ricorda la chiesa con tante immagini. L'immagine della sposa, della vergine e della madre. Sono le stesse immagini che sono attribuite a Maria. E poi ne parla come la chiesa santa usando l'immagine della vigna, un'immagine che ricorre spesso nella scrittura per descrivere il popolo di Dio, la comunità dei credenti, di coloro che cercano di camminare nelle vie del Signore. La descrive come la chiesa beata usando l'immagine del tempio. Ecco, il tempio dove Dio abita, lì è il luogo di gioia, di pace, di beatitudine. E poi la chiamo ancora chiesa sublime, usando un'altra immagine biblica, quella della città alta sul monte, è la nuova Gerusalemme, no? Il luogo dove Dio abiterà per sempre. Allora dedicare un edificio, unicamente a Dio e alla preghiera, dove il popolo, la comunità cristiana, la chiesa di uomini si raccoglie, è davvero un evento eccezionale, che merita tutta l'attenzione e merita di essere celebrato dopo 25 anni. E infatti veniamo proprio ai giorni nostri, Don Francesco. Come si svolgerà la celebrazione del primo agosto? Ecco, la celebrazione del primo agosto sarà una celebrazione eucaristica, non avrà, diremmo così, niente di speciale all'interno della celebrazione, ma sarà un fare memoria di questo evento e sarà presente il nostro Vescovo Dio Cesano, che in qualche modo ci dice che è la chiesa tutta che in quel giorno della diocese si raccoglie in quel luogo per fare memoria non solo di Maria, madre della chiesa, ma del nostro essere chiesa, no? In cammino con il Signore Gesù e con la madre di Dio, ecco speriamo che molti possano partecipare, anche perché una delle caratteristiche, diremmo così, dell'edificio, che è stato dedicato, è quello di poter, potremmo dire così, è modulare per quanto riguarda la possibilità di partecipare, perché c'è la chiesa che può essere chiusa, che ha il suo impianto di amplificazione, poi c'è tutto il sagrato, dove oggi abbiamo disposto delle sedie, anche questo ha la sua amplificazione, c'è la cappellina, anche questa ha l'amplificazione direttamente dalla chiesa, e poi tutto il sagrato, volendoci si può sedere tranquillamente davanti alla grotta della Madonna e partecipare all'eucaristia, perché si ode tutto e sullo sfondo si vede la celebrazione. Oggi, così come siamo, mantenendo tutte le regole del distanziamento previsto, possiamo ospitare sulle 240 persone in posti a sedere. Ecco, quindi diciamo che non ci sono difficoltà dal punto di vista appunto del quanto viene richiesto per la sicurezza nei confronti del possibile contagio dal virus. Ricordiamo che la celebrazione sarà alle 18, e quindi insomma la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento. Abbiamo già parlato della preghiera apposita, la preghiera di dedicazione, ci sono comunque dei riti liturgici che vengono svolti in questi giorni in preparazione all'evento? Diremo così, noi stiamo preparando l'evento con la preghiera, in modo particolare unendoci quotidianamente nella preghiera del rosario. Abbiamo potuto fare di più dal punto di vista della festa, ci sarebbe piaciuto poter dopo la messa fermarci ancora insieme, poter offrire, come spesso si fa in queste occasioni, un momento di fraternità con un brindisi, con una torta, una tartina, ma purtroppo le regole del distanziamento quest'anno ci impediscono, per cui tutto viene vissuto un po' da questo punto di vista in tono minore, ma noi confidiamo che sia il cuore che fa festa, no? E sarà un grande momento. Ecco, Don Francesco, com'è la vita adesso della comunità su al santuario? Ci sono anche persone che vengono da fuori, no? Per avere, diciamo così, un momento di riflessione, un momento di preghiera particolare. Dopo la riapertura c'è stata da subito una ripresa della partecipazione delle persone. Ricordo la domenica di Pentecoste, alla fine di maggio, era la seconda domenica in cui potevamo celebrare, il santuario si era già riempito. Era una bella giornata e questo ha aiutato. Le persone avevano desiderio finalmente di respirare, di uscire, anche questo ha aiutato, ma certamente c'era il bisogno e il desiderio di riprendere anche la vita liturgica e la propria vita di preghiera e anche di potersi riaffidare a Maria che è sentita nel cuore di tantissime persone proprio come colei che ha un cuore materno, che ha cura, che protegge, alla quale si possono affidare le proprie preoccupazioni, le persone care, le situazioni attraverso la preghiera che chiede la sua intercessione. E poi questa presenza ha continuato a crescere, tant'è vero che abbiamo appunto progressivamente allargato lo spazio del sagrato dove potersi collocare e ormai quotidianamente ci sono persone che vengono e che, diciamo così, vengono alla grotta. Anche la messa feriale ha avuto un incremento nella partecipazione e poi soprattutto le messe domenicali vedono una bella presenza. Diremo così, il santuario è frequentato da un nucleo di persone locali che salgono quasi regolarmente per la messa domenicale. Perché anche i bellunesi sentono proprio il colle, no? I bellunesi sono molto attaccati. Sì, devo dire che ci sono persone bellunesi che lo amano davvero e che trovano lì un luogo di ristoro. E poi c'è quella partecipazione di coloro che hanno comunque sulle regali un punto d'appoggio per cui magari vanno, vengono, ma quando ci sono partecipano sempre. Ma c'è anche una fetta di persone che viene ingiornata. Partono dai loro paesi, qui generalmente del Veneto, e vengono su per la loro devozione a Maria, per vivere una giornata anche un po' più fresca, nel caldo magari torrido e umido, no? Che si può trovare così più in pianura. E passano così la loro giornata sul colle del Nevegal, partecipando sempre alla messa o la visita a Maria, alla grotta. Diremo così, in questo momento non si sente particolarmente il peso della pandemia. La gente, devo dire, nella gran parte ha interiorizzato le regole, le rispetta con tranquillità, non occorre così fare interventi di autorità per far rispettare le regole. E per cui, da questo punto di vista, anche i nostri animi della comunità si rasserenano, insomma, si vede che le cose vanno bene. Stanno andando meglio, ecco. Speriamo che tutto prosegua appunto per il meglio, che ci sia l'attenzione da parte della cittadinanza, appunto per non vanificare anche gli sforzi che sono stati fatti. Allora, salutandoci, noi ricordiamo quindi l'appuntamento per il primo di agosto alle ore 18, per la santa celebrazione in occasione del 25esimo della dedicazione del santuario della Nevegall a Maria. Io la ringrazio, Don Francesco, come sempre, per essere stato con noi e poi ci ritroveremo per tornare a parlare ancora delle tante attività del santuario. La ringrazio per questa ospitalità e saluto tutti i telespettatori. Grazie, Don Francesco. A voi tutti, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti.